Tra gli agenti immobiliari si parla spesso di cambiamento, ma cambiare senza consapevolezza non serve, perché una persona, un professionista magari sta bene lì dov'è, continuando a fare le cose che ha sempre fatto. Ma se tu hai il sospetto di poter far meglio, di poter far di più, se pensi che l'evento del cambiamento abbia modificato le abitudini sociali delle persone, se credi che il web abbia cambiato il modo di comunicare con gli altri, forse dovresti fermarti un attimo a fare i conti con questo tempo. Un vignettista inglese disse che alcuni cambiamenti sono così lenti che non te ne accorgi, altri invece sono così veloci che non si accorgono di te. 27 aprile, ore 9.30, Roma, Hotel Sheraton Parco dei Medici. Ti aspetto insieme al gruppo Casare, a Bruno Vettore e ad Alessio Beltrami per un nuovo appuntamento molto concreto nell'ambito del percorso formativo politematico, comprende il cambiamento. Ti invito quindi a visitare la pagina Facebook dell'evento, a dare la tua adesione e magari a parlarne anche con altri colleghi. Ci vediamo a Roma, ci conto!